Space Metropolis Space Metropolis l'abbiamo definito un cantiere cinematografico e d'arte è un esperimento che abbiamo realizzato in uno spazio occupato, Metropolis, nel 2011 con l'idea di realizzare questo esperimento di cinema fantarealista e un po' situazionista ed è stato un esperimento importante che ha dato l'avvio a quello che l'anno dopo ho chiamato Museo dell'Alto e dell'Altrove di Metropolis e Città Meticia, il MAM, cioè un altro dispositivo, un'altra situazione, questa volta non più il cinema ma il Museo di Arte Contemporanea. È un progetto che ho fatto al giro del mondo, oggi ospita oltre 600 artisti che difendono il diritto all'abitare, il diritto alla città, il diritto anche alla bellezza, alla cultura per tutti e quindi proteggono questi 200 abitanti di cui oltre 50 minori che sono minacciati dallo scupperolo 4.